benvenuti ai nostri appuntamenti amici per il 79esimo festival di venezia purtroppo noi non ci saremo non ci saremo ci saremo chi l'ha detto che non ci saremo ci saremo volevo dire perdonateci perché non troveremo il possibile ma viste le situazioni alla lontananza che sai che come il tempo non ci darà la possibilità di essere lì ci saremo ci siamo ci siamo e come ci siamo io non so che perdonateci vorrei parlare naturalmente cercheremo di esserci la prossima volta chissà un giorno di questi dove verremo naturalmente ma noi veniamo sempre ci siamo ci siamo e mi dica no ma di chi stai parlando mi scusi è un gruppo di domenicane scalze devi lasciare senatore saluti arrivederci grazie scusatemi scusatemi vi devo lasciare scusatemi perché rompe ora senatore mi spieghi un attimino cosa sono queste domenicane e scalze suore si è messo con un gruppo di suore non ho capito non entriamo nell'ecclesiastico le domenicane e scalze sono delle abitanti della Repubblica Dominicana che io sto contattando per quale motivo? si ricorda l'altra volta che parlavamo delle famose badanti per gli ultra sessantenni pagate da loro dove ce sto pure io? eh sì anche per lei una domenicana scalza c'è una roba incredibile ma senti la cosa ma lei tutte queste robe lei che senatore secolo per la candidatura scusi tanto si ho capito ma vista a Prima Repubblica vogliamo spiegarlo perché ancora gente cosa vuol dire? lei è stato trombato e quindi il senatore per questo motivo a Prima Repubblica sto giro però stavolta cosa è sta roba? bene bene l'hanno acchiappata grazie avete fatto un buon lavoro grazie ma non lo capite i carmelitani queste qua? questa è una bella cagata di una gazzalatra altra che carmelitana scarsa ma porca miseria grazie amiche ma mi hanno mancato pure la maglietta e non ci fa niente ma lei proprio non la toccano completamente io sono intoccabile perché se non già sono e basta senti la cosa senatore noi a Venezia naturalmente non possiamo andare lei era in concomitanza ci saremo ci saremo e come ci saremo? lei è ma dette le carmelitane le domenicane ma perché? cosa c'entra? chi li gestisce? le cani? non gliel'avevo detto signor ronni no e la mia cara amica si ricorda? la mia cara amica quella l'ereditiera l'ereditiera? sì vabbè li porteremo su uno yacht ah niente elicotteri oppure su un panfilo non lo so se è un panfilo o uno yacht non dica più panfilo sa perché? sento no porca miseria grazie grazie ma che? ma sta facendo una raccolta di cagate di gianzelatre ma dice che porta bene ma ce ne so finca sono ricco e un ornitologo mi è diventato un ornitologo un uccelologo un uccelologo un uccelologo un uccelologo senti una cosa allora che facciamo? ci vediamo tutti quanti sul panfilo e la porterò sul panfilo e quanti posti letto? eh tanti posti letto ce n'è per lei per le cammerine voglio capire però che si ma voglio capire chi è che guida perché Alfio è in elicottero questa volta abbiamo chiamato a Tommaso a Tommaso quello della scopanifica naso esatto esatto Tommaso entra dappertutto quello che entra che stanno facendo? niente Tommaso mi raccomando perché io mi controllo esatto sanatur sai che ti dico ci vediamo sul panfilo sul panfilo no prima che la cazzerata ci ripensa sul panfilo va bene sanatur la salute arrivederci la salute e le reti sì ma la cosa perché? e io ho domenzi io pa via ok a prima di shop non Autore dei sorrisi